La maggior parte dei macchinari in palestra per chi comincia ad allenarsi è assolutamente inutile. Perché vi dico questo? Perché l'importanza di un allenamento a corpo libero, inteso come l'utilizzo di bilanceri, di manubri, eccetera, ottimizza non solo l'allenamento stesso, ma anche tutto il corpo nel senso dell'equilibrio, di tutto quello che è la percezione del proprio corpo in senso lato. Questo perché allora non viene fatto? Perché le persone arrivano in palestra e gli danno una scheda, fatta a caso ovviamente, piena di macchinari, perché è più semplice. Una persona messa sotto un macchinario non si potrà mai fare male e l'istruttore di turno, figurati se dovrà impiegare magari mezz'ora, un'ora o più giorni addirittura per insegnare un esercizio funzionale, utilissimo, ma assolutamente una rottura di coglioni e una perita di tempo. Quindi ragazzi attenzione, quando iniziate un percorso di allenamento, siate sicuri di fare le cose fatte bene, perché non solo avrete nel tempo dei risultati minori, ma automaticamente perderete un vantaggio assoluto di migliorare il vostro corpo nella propria totalità, intesa anche come equilibrio, coordinazione e benessere generale. Grazie.